Chiara Ferragni ha già voltato pagina. La foto con un altro che scatena i dubbi. In un mondo dove i riflettori non si spengono mai, l'ultima storia di Instagram di Chiara Ferragni solleva più di un'ombra sul suo recente passato amoroso. Cosa ci nasconde dietro quel sorriso radioso accanto a un uomo che non è il suo ex marito? Restate con noi per scoprire dettagli che potrebbero sorprendervi e non dimenticate di lasciare un like se siete curiosi di sapere di più, commentare con le vostre teorie e iscrivervi per non perdere le prossime analisi. Mentre Fedez continua la sua vita tra serate glamour e comparsate sui palchi più trendy d'Italia, Chiara sembra trovare conforto e complicità in figure ben diverse. Angelo Tropea, amico storico e ora presenza costante, è diventato il suo compagno di avventure, tanto da essere etichettato dalla stessa Ferragni come «praticamente mio marito». Queste parole, sfuggite in una storia Instagram durante un weekend romano pieno di risate e momenti condivisi, non possono essere passate inosservate. Tra foto alla fontana di Trevi e giochi con i suoi bambini, Chiara si mostra in una luce diversa, quasi liberata. Ma è davvero solo una semplice amicizia quella che lega Chiara ad Angelo? Il racconto che si dipana attraverso i loro scatti insieme suggerisce un'intimità e una complicità che solo il tempo può costruire. E mentre i fan si interrogano, non possiamo fare a meno di chiederci, sta Chiara trasformando una vecchia amicizia in qualcosa di più profondo per colmare un vuoto lasciato da una relazione finita? Mentre la rete si infiamma di ipotesi e il dibattito si accende nei commenti, una cosa è certa, Chiara sa come mantenere alta l'attenzione su di sé. Che ci sia dietro una strategia ben inorchestrata o semplicemente la voglia di andare avanti, solo il tempo potrà dircelo. Cosa ne pensate voi? È solo un modo per provocare o c'è davvero un nuovo capitolo che si sta scrivendo nella vita sentimentale di Chiara? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi per seguire tutte le evoluzioni di questa storia appassionante.